buongiorno a tutti popolo di facebook di youtube popolo di tutto mondo io mi chiamo franco picchi sono il figlio di sergio pandera ovvero a sua volta una bu di sergio leone sembra una famiglia animale va io ho lavorato tantissime anni con don speranteo e col grandissimo francesco benigno come voi avete potuto vedere i film degli anni 80 fino anni 80 ragazze fuori mere per sempre anni 90 uno dei grandissimi film da mafia a palermo me l'hanno solo andata io facevo la parte del picciotto de classe ecco ora io sono regista e sto girando un film qui a palermo e sto cercando delle nuove compasse ecco e 18 ai 24 anni che vuole partecipare vuole fare casting mi chiami a 3 4 5 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 0 0 5